Con temperature importanti siamo qui ai campi di calcio di Via Resia, dove domani avrà il via la 35esima edizione del torneo Città di Bolzano. Cos'è il torneo Città di Bolzano? Non sto qui a spiegarvelo. È il torneo di calcio forse più conosciuto nella stagione estiva qui a Bolzano. Inoltre parteciperanno come sempre i piccoli, gli amatori, i professionisti con appunto partite di calcio che andranno avanti tutto il giorno e fino alle 23. Ma quest'anno tante le novità perché si darà larghissimo spazio all'intrattenimento, intrattenimento di qualsiasi tipo e genere. Dallo Zumba al karaoke alla partita di Champions League di sabato al divertimento per i più piccoli. Insomma dal 4 al 21 giugno ce ne sarà un po' per tutti i gusti e ovviamente il giorno dell'Alto Adige sarà qui a seguire la manifestazione in toto. Perché sì, saranno importanti le partite di calcio ma a noi interessa sapere anche cosa succede intorno, cosa succede negli spogliatoi, cosa accade qui dove si mangia e ci si diverte. Beh noi ci saremo per seguirlo quindi vi aspettiamo a tutti i nostri appuntamenti da 4 al 21 giugno.